Ciao bimbi e benvenuti ad un nuovo capitolo della Nerd Cultura. In questi ultimi anni avrete capito sicuramente tantissime cose del sottoscritto, quando parlo la mania di gesticolare ed urlare e sono attratto morbosamente dal dire volgarità per esprimere un concetto. Sono sarcastico e scherzo praticamente su tutto, sono cinico e ipercritico su qualsiasi cosa mi circondi, ma una cosa ve l'ho sempre tenuta nascosta, sono pigro. La mia pigrizia spesso mi impedisce di vivere in maniera normale, perdo telefonate importantissime perché magari non ho voglia di alzarmi dalla sedia o dalla poltrona per rispondere, lascio in compiute tantissime delle mie attività per la fatica che mi potrebbero procurare, addirittura sul mio cellulare la rubrica è composta da una decina di numeri perché non ho mai voglia di salvarli e questo dà il via a sti parenti interessanti. Pronto? Oi, ciao Dario. Boia bello, grandissimo, poi è da un botto che non ci si sente, come stai vai se viene a vedere il meglio di tutti? Ma, non sai chi sono vero? Beh no. Purtroppo spesso sono pigro anche con voi e per la fatica di leggere le mail spesso le lascio accumulare e quando finalmente mi decido di aprire la mia casella mi ritrovo un minimo 300 mail da leggere che coprono un arco temporale dai 10 ai 15 giorni. Fra le tante letterine del cazzo scritte probabilmente da menomati mentali che aggiungono il testo all'oggetto della mail che mi chiedono cosa ne penso di Naruto e qual è il mio pokemon preferito, spesso spuntano altri tipi di mail. Mail lunghe e ben scritte, quelle lettere che vorresti sempre ricevere. C'è chi mi ringrazia di un consiglio, c'è chi mi manda le foto dei nuovi acquisti e c'è addirittura qualcuno che mi racconta la sua storia. Gente che si è messa insieme conoscendosi nei commenti dei miei video, gruppi di amici che si sono andati a formare grazie al tour o altri eventi organizzati da me e dal chip e poi gli utenti che mi ringraziano per aver sconfitto brutti momenti per merito di un fumetto che hanno comprato dopo averlo sentito nominare in un mio video. Nella vita purtroppo capita di dover affrontare muri apparentemente invalicabili, però capita anche che una nostra grande passione ci aiuti ad affrontare, a rompere queste barriere. La mia passione, e penso anche quella di molti di voi che seguono questo canale, è la nona arte, ovvero il fumetto. Quindi adesso arriviamo alla domanda chiave che poi dà il titolo anche a questo video. I fumetti possono sconfiggere i brutti momenti della vita? Secondo me sì, il fumetto può tutto. Partiamo da lontano e prendete Tex, per esempio. Il primo numero uscito nel 1948, nel formato perizoma, andava di mota così a quell'epoca. Da pochi anni era finita la seconda guerra mondiale e l'Italia era in uno stato di confusione assoluta. La gente viveva di merda ed erano un po' tutti allo sbando. Il problema non era solamente mangiare, ma si doveva sopravvivere cercando di ricostruire uno stato completamente distrutto. In quegli anni però, dopo vari esperimenti bonegliani finiti male, arrivò finalmente Tex, che con i suoi sfondi e con le sue avventure a cavallo fra indiani, salune e simili dispari, ha fatto sognare tantissimi italiani senza speranza. Tutti quelli che non potevano viaggiare davvero cercavano invece di viaggiare con la fantasia. L'America e i deserti del vecchio West non erano proprio alla portata di tutti in quella fase storica. Forse chissà, sarà stato proprio quello a far diventare Tex un vero e proprio fenomeno editoriale che continua ancora adesso. Pensate che bellezza, bimbi. Con solo 15 lire ti potevi comprare e leggere questa piccolissima striscia che per pochi minuti cancellava la tristezza di un conflitto passato e dipingeva davanti ai nostri avi una realtà che era difficile da vedere anche in foto su qualche enciclopedia. Ovviamente questa realtà veniva fusa anche all'azione, al mistero e all'occulto. Perché non mi venite a dire che Mephisto e i suoi mille figlioli o un alieno che schiavizza gli indiani per riparare un'astronave siano cose realistiche, eh? Insomma ragazzi, possiamo dire tranquillamente che Tex è stato un barlume di speranza in una cultura pop che stava nascendo prepotentemente anche nel nostro paese. Anche l'America non fu da meno. Pensate a Superman, il supereroe per eccellenza. Apparso per la prima volta su Action Comics numero 1 nel 1938. Superman arrivò di punto in bianco in un'America disastrata dalla depressione, dalla disoccupazione e poi successivamente dalla guerra. Superman è l'incarnazione della speranza dell'America che non si vuole arrendere dell'iperpotenza in tutte le sue forme. E per tutta una storia le persone hanno sognato un avvenire migliore grazie al bazzone col mantello rosso. Superman, tutti gli altri supereroi della Golden Age e tutti gli altri fumetti americani venuti fuori in quel periodo hanno rappresentato proprio questo. Un grande sogno, anche da parte di chi li ha disegnati. Tantissimi fumettisti infatti per cercare di sfondare, per proporre nuove idee ad un pubblico americano apatico e squattrinato hanno fatto di tutto per poter lavorare a contatto con le proprie passioni. Hanno disegnato e scritto ore e ore sfidando la salute. Hanno fatto lavoretti extra per raccimolare qualche spicciolo necessario a comprare il materiale da disegno. Sono passati da una casa editrice all'altra, dato che in quel periodo storico qualsiasi azienda falliva in un momento. Ecco, finalmente la Dario Moccia Comics è pronta per sfornare tanti bei fumetti. Dario, è arrivata ora la notizia. Siamo falliti. Nonostante questo, però, alcuni di questi sognatori ce l'hanno fatta. Jack Kirby, Bob Kane, Sigla e Schuster. Tutte persone che si sono arrangiate per far diventare il fumetto qualcosa di superiore. Cari miei, entrando in fumetteria oggi potrete trovare di tutto, qualsiasi tipo di cosa. Ma prima non era così. Il fumetto era considerato una cazzata completa e soprattutto era gratis. Era una nota a piedi pagina sui quotidiani. Non si finanziavano i fumettisti comprando albi. Non c'erano serializzazioni. Non c'era Death Note che vi piace tanto. Non c'era un cazzo. Se questi giganti si sono fatti il culo e si sono impegnati per darvi quest'arte che adesso tutti noi conosciamo, è stato solamente per il desiderio di costruire un futuro migliore per noi lettori e per i nuovi fumettisti. Volevano un mondo dove tutti potessero esprimere i loro pensieri, le loro storie e la loro arte attraverso vignette e balloon. Quegli artisti non sono poi così tanto diversi da voi che sognate aprendo e leggendo i vostri nuovi acquisti. Prendete per esempio Will Eisner, l'inventore della graphic novel, del romanzo a fumetti, via. Per tutta la sua vita non ha mai smesso un momento di sperare in una nuova concezione della nona arte e di una sua rivalutazione. Si è sempre battuto per rivoluzionare tutto e ce l'ha fatta. Ha ribaltato qualsiasi canone, ha cambiato l'impostazione delle vignette, il modo di fare e raccontare storie, ha fatto brillare la parola fumetto di una nuova luce. Tutti, e dico tutti, devono stare zitti ed imparare da lui. Leggetevi il volume raccolta a Life in a Pictures per capire che tipo di uomo era, per capire come lui vedesse la sua città, il suo popolo e le storie che brulicavano intorno a persone apparentemente insignificanti. Non c'erano colpi di scena incredibili o superpoteri impressionanti, c'era solo la presa di coscienza nel dire «Io disegno e scrivo per il pubblico, voglio comunicargli qualcosa, voglio mettermi alla prova e vedere cosa posso ottenere dal fumetto, voglio cambiare la vita degli altri in meglio». Will Eisner e tutti gli altri ci hanno passato un sogno che molti prima di noi hanno accolto per superare crisi, per vivere meglio e sorridere un po' di più. E anche adesso la nona arte serve a quello. Per esempio, molti di voi andranno sicuramente ancora alle superiori, un periodo della vita possiamo dire agrodolce, fatto di sacrifici, compiti, rapporti, bigliettini nelle mutande e ormoni che invadevano le aule con un dolce aroma di palle. In mezzo a tutti questi elementi ci sono stati dei validi compagni a darci una mano, i nostri compagni di banco, il nostro migliore amico e magari i nostri primi amori. Insieme a loro però c'era un altro valido alleato, che nei momenti di crisi e di farfalle nello stomaco per un compito difficile ci ha assistito, magari strappandoci una risata, l'Agenda Comics. Almeno io avevo lei, le sue strisce sono sempre state di qualità e mi hanno aiutato a rilassarmi mentre magari stavo per tirare un banco nel viso ai professori stronzi. Ho amato Nirvana con le sue freddure alte e intelligenti. Dilbert che con la sua satira ci aiutava a capire la situazione dei cravattari chiusi negli uffici e usati come macchine da lavoro. C'erano i Pinus, il Lupo Alberto, le vignette di Alta, nei monologhi di grandi comici italiani come Puzzanti o Luttazzi. Ma una cosa su tutte mi ha sempre colpito di più di questa agenda, la mia striscia preferita, ovvero Calvin e Ops di Bill Watterson. Mi sono subito innamorato di questi due personaggi assurdi che insieme cercavano di combattere la monotonia della vita grazie all'uso della fantasia vivida e pura. Infatti Calvin è un bambino vivace e pestifero che ne combina di tutti i colori e al suo fianco c'è una tigre di pezza chiamata appunto Ops che tutti vedono come un semplice peluche ma che nella sua fantasia è una tigra vera che può interagire con lui. È diciamo un suo amico immaginario dato che Calvin possiamo dire che è un bambino anormale è completamente diverso dagli altri bambini o dai suoi compagni di classe. Vede tutto come un gioco, come un mondo parallelo popolato da dinosauri, alieni in muta forma, robot giganti che più ne ha più ne metta. Calvin è un artista, un piccolo genio che grazie all'aiuto di Ops riesce a trasformare la più piccola e insignificante cosa in una magica avventura dove tutto è possibile. Le battute e le vignette di Calvin e Ops sono il concentrato di tutti i sogni dei bambini messi in contrapposizione alla realtà alienante chiusa in una scatola piccolissima. Ogni volta che guardo le fantastiche tavole colorate di Waterson la mia mente non può far altro che ritornare fra i banchi di scuola e ripensare con nostalgia che in quel momento non ho mai amato così tanto il fumetto. Quando sfavatissimo mi accingevo ad aprire il diario per annotarmi la lezione c'erano Calvin e Ops insieme a tutti gli altri a consolarmi. In questo caso il fumetto è stato potentissimo e ha aiutato molti di noi nella crescita e nella formazione. E a proposito di crescita, se a scuola avevamo la comics fuori da lì ovvero ai giardinetti, da un nostro amico o perché no anche nel bagno e nel gestione delle riviste avevamo Topolino. Parlare della sua storia editoriale e di tutti i personaggi che sono passati in questo settimanale è praticamente impossibile, almeno in poco tempo. Diciamo solamente che Topolino è stata una rivista ben conscia del suo potenziale e l'ha sfruttato per donare a tutti noi ben più di storielline politicamente corrette. Topolino e i suoi più grandi autori hanno gettato le basi per creare una rivista completa. I gadget montabili uscita dopo uscita, i cicli appuntati come paper novella o topo colossal, le storie capolavoro presentate con fierezza in copertina, le foto e le lettere da mandare sperando in una pubblicazione, i giochi, le iniziative editoriali, eccetera eccetera eccetera. Questo settimanale è una sorta di coperta che ci avvolge quando vogliamo. Una grande raccolta di allegria, colori e di personaggi indimenticabili. Personaggi che sono sì statici e fine a se stessi, ma che comunque sia i grandi pilastri Disney italiani hanno sempre cercato di rinnovare con idee vincenti. Pensate solamente all'avventura di Paperinic che sono sempre state caratterizzate da colpi di scena molto convincenti e maturi e dai gadget di Archimede sempre nuovi. Oppure ai piani di Paperone per fare sempre più soldi che non sono mai uguali e che sono sempre divertenti da vedere all'opera. La leggendaria pigrizia di Ciccio, la stupidità di Paperoga, caratteristiche che serviranno da tramite per creare situazioni ai limiti dell'assurdo nelle storie. L'emblematica sfortuna di Paperino che si contrappone alla fortuna di suo cugino Gastone e che anche qui crea situazioni o storie intere che si rinnovano e ci propongono nuove sfaccettature divertenti e molto 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 altro. Ma ovviamente non si può parlare di Topolino senza il suo portavoce, ovvero appunto Topolino. Un personaggio molto versatile che è sempre stato inserito in contesti estremamente diversi tra di loro. È protagonista di storie comiche, misteriose, avventuriose, quotidiane. Topolino ha affrontato qualsiasi tipo di minaccia o di nemico possibile. Qualcuno introdotto anche di recente, come Vito Doppio Scherzo. Il Topastro, come lo chiamerebbe Gamba di Legno, si è plasmato ad ogni tipo di sceneggiatura e proprio come la sua rivista è immortale. Non è mai invecchiato, ma anzi è sempre stato al passo con i tempi, così come tutti gli altri personaggi. La tecnologia avanza anche nel loro mondo, i social, gli smartphone e internet. Si deve andare avanti per accontentare i vecchi lettori, ma allo stesso tempo attirare i più giovani. Ci si rinnova anche nelle storie, pensate a Wizard of Mickey o Double Duck o alle grandi parodie come Moby Dick o Dracula di Bram Topker. Non ci fanno mancare nulla. Con Topolino si sperimenta, si guarda al passato, ma si pensa anche al futuro. Si propongono canoni, sì, ormai affermati, ma se ne creano anche di nuovi per non far diventare la rivista obsoleta. Insomma, bimbi, questo settimanale vuole sempre stare accanto a noi. Non rinuncerà mai. Artisti come Artibani, Cavazzano, Casti, Ziche, Faccini, Enna, Coppola, Celoni, Faraci, Mastantuone e molti altri hanno lavorato per far sì che Topolino non sia solo un compagno di avventure, ma una filosofia di vita. Una filosofia che si basa sulla fantasia, sull'eroe senza macchia, sull'allegria e sulla voglia di guardare al futuro con speranza e costruttività. Un esempio che secondo me ogni fumetto di oggi dovrebbe dare. Arriviamo adesso all'ultima parte di questo video, dove andremo un po' più nello specifico e vi dirò quali sono stati i fumetti che mi hanno dato un po' di respiro quando ero veramente giù. Magari servirà anche a voi. Spesso capita di incappare in una delusione d'amore. Magari state tanti mesi o addirittura anni accanto ad una persona e gli o le date il cuore e lei prontamente ve lo mangia nel viso e vi lascia perché vuole testare un rapporto sessuale con un vogatore. Dopodiché state di merda e tutta la realtà che veravate costruiti sparisce lasciando il posto al nulla. È successo a me, è successo a molti miei amici e probabilmente è successo anche a molti di voi. Ecco, invece di alcolizzarvi o altro, prendete un fumetto ed iniziate a leggerlo. Non pensateci, ma anzi, aiutatevi. Un manga che mi ha aiutato parecchio in situazioni simili è stato Video Girl Eye di Masako Katsura. Si parla di amori complessi, alcuni addirittura fantascientifici, dove l'emozione e il sentimento sono ancora acerbi e spesso sfociano nell'immaturità. Vediamo storie di ragazzi confusi, altruisti ed egoisti, dove in loro regna l'amore puro, l'amore della giovinezza guidato solo dall'istinto, non esistono mezze misure. Crediamo di amare una persona e poi invece scopriamo che il nostro cuore appartiene ad altri. Ci affezioniamo a dei momenti incancellabili, memorizzando i profumi, i sapori, gli sguardi di complicità fra noi e il nostro partner. Un appuntamento nel vostro posto speciale, il momento in cui vi siete incontrati per la prima volta, ma anche il momento in cui avete pianto insieme, che avete litigato ferocemente per poi riappacificarvi scambiandovi un bacio pieno di sentimento. In questo manga respiriamo e assimiliamo tutto quello che è il primo amore, il primo bacio, le prime voglie sessuali. Video Girl Eye è la storia giusta per sfogarvi e per rivivere emozioni che avete dimenticato. Ma non fraintendetemi, non servirà a farvi sentire tristi, anzi, la malinconia vi aiuterà a riscoprire queste sensazioni su carta per ritrovare il coraggio di riprovare un sentimento complesso e ingarbugliato come quello dell'amore. Oltre alle perdite amorose ci sono momenti purtroppo dove perdiamo qualcuno a noi caro, un amico, un parente e a volte uscirne è veramente difficile. Oltre al sostegno della famiglia, degli amici o di altro ci può essere anche il sostegno delle passioni. Prendiamo per esempio il mio amato One Piece. La sua freschezza, i suoi personaggi, le sue sottotrame, le ambizioni e i sogni dei nostri protagonisti, ti possono far salire a bordo della loro nave e lasciare la tristezza fuori dalla porta. L'ironia e la sfrontatezza di Onizuka in GTO, le parodie e la demenzialità di Keroro o di Medaka Box ci aiutano a ridere di brutto e a isolarci da tutte e da tutti. I valori altissimi che comunicano gli scontri e le avventure dei protagonisti di Shaman King, difendere l'amicizia ad ogni costo e trovare la pace interiore per vivere in armonia con il mondo. La commozione che si prova godendosi le partite ben costruite di Slam Dunk. Partite fatte di gocce di sudore che inglobano sacrifici, voglia di rivalza sociale, rivalità, grande ironia e vignette ultradinamiche che spingono l'azione ai massimi livelli. Ogni schiacciata, passaggio, tiro sono un brivido che ti percorre lungo la schiena, le partite non sono mai scontate. Non sai mai se i tuoi giocatori preferiti possono davvero vincere la loro partita della vita. Salti insieme ad anamici per eseguire uno Slam Dunk e fare canestro mentre il pubblico ti acclama. La palla è la tua tristezza ed il canestro è la tua salvezza. La mano sinistra è l'ausilio per la destra. Provate anche voi a leggere i fumetti per arricchirvi dopo uno sconforto e per superare i momenti brutti della vita. Come abbiamo detto all'inizio del video, la nona arte può tutto. Riuscirete prima o poi a centrare il canestro per guardarvi allo specchio e finalmente sorridere. Allora ragazzi, anche questa nostra piccola avventura è finita. Come al solito vi raccomando di condividere il video su ogni social network possibile e di mettere il mi piace. E poi un'altra cosa molto più importante. Voglio sapere adesso quali sono stati i vostri fumetti oppure qual è stata la vostra passione che vi ha aiutato nei momenti difficili della vita. Qual è stato il videogioco, il fumetto e il libro che vi ha aiutato di più, che avete più nel cuore. Sarò curioso di leggere tutti i vostri commenti e magari di rispondervi, quindi scatenatevi. Siccome molti di voi mi chiedono via mail se ci sarò ad eventi, a festa del fumetto, eccetera eccetera, vi raccomando di seguire la pagina Facebook perché tutti gli aggiornamenti li do lì, anche sui nuovi video. Posto sempre immagini spoiler, indizi per nuovi video, consigli, collaborazioni, qualsiasi cazzata, cercatela, compiti per casa a Dario Moccia. Mettete mi piace lì perché quella è l'unica pagina ufficiale. Come al solito vi saluto, iscrivetevi al canale e un bacione dal vostro amico Dario Moccia. No, allora, questa la devi vedere assolutamente. Ah, cosa? Hai vedere? Guarda, le medie cosa disegnava. Mamma mia. Metti a fuoco, ziondo. Allora, questa è la mia agenda, la comics delle medie, ragazzi. Le avventure del Lenzi, numero uno, però ho controllato, ce n'è solo una di avventura. Allora, c'è questo dottore che fa, finalmente, la mia creatura è pronta, ora nasci e c'è lui che fa, chi sei? Tipo Mewtwo, no? E l'ho già fissato con i Pokémon, la bestia. Chi sei per comandarmi? Boom, esplosione, distrugge tutto e l'embrione del Lenzi esce. E diventa il Lenzi che dice, sono diventato un ragazzo, sono libero, andrò qui. E ce l'ha scritto casa Lenzi, cosa cazzo c'è scritto? E continua. Insomma, è scritto continua, però, peccato, ero curioso di sapere questa avventura del Lenzi. Auso conclusivo.